direi di cominciare siamo molto contenti di iniziare questa collaborazione con il circo dei lettori e con questi quattro eventi che ha organizzato in particolare il dottor Bernardini devo dire che io sono il presidente dell'ordine degli psicologi regionali Giancarlo Marenco e devo dire che con la scrittura noi abbiamo già avuto dei contatti in precedenza abbiamo organizzato il 6 ottobre un convegno sul rapporto tra psicologia e scrittura l'anima delle parole tra cura e scrittura e credo un tema che sia caro sicuramente a Chiara Gamberale con la partecipazione dei tre scrittori piemontesi Massimo Tallone, Paola Cereda e Alessandro Persinotto ma ancora prima abbiamo fatto sempre con Massimo Tallone quattro webinar dedicati all'arte della scrittura dedicati agli psicologi hanno partecipato circa 100-150 psicologi perché anche gli psicologi scrivono non solo saggi ma anche romanzi e devo dire che questa cosa è esitata in un libro che ho in mano, un libro collettaneo di dieci racconti scritti da colleghi che si chiama Stralci di vite e che è stato presentato nell'ultimo solo dei libri. Quindi siamo molto curiosi, interessati dagli apporti che la scrittura può dare alla psicologia, siamo anche molto invidiosi della capacità degli scrittori di saper interpretare l'animo umano, di entrare nel cuore delle emotività, nel saperci prendere con le vicende umane, descrivere la complessità delle relazioni familiari nel saper collegare passato e presente e una capacità, un'abilità per chi ha letto i libri di Chiara Gamberale che sicuramente esprime. Da parte nostra credo che la nostra capacità creativa se si può dire così la realizziamo all'interno dei nostri studi professionali, all'interno dei nostri setting. Io credo che si possa dire che il processo terapeutico, il processo di cura è un processo costante di crescita creativa, perché se è vero che abbiamo l'obiettivo di raggiungere il miglior benessere psicologico per quella persona in quel momento storico della sua vita, è altrettanto vero che non sappiamo da dove partiamo, non sappiamo dove arriviamo, non sappiamo che cosa succederà nella relazione terapeutica e lì non contano solo le conoscenze, la capacità di gestire il setting eccetera, ma conta anche la capacità di esserci nella relazione con l'altro e di mettere in campo anche le proprie potenzialità creative, la propria creatività, la propria soggettività, il proprio modo di essere. Questo è l'incontro terapeutico e questo ci avvicina a quello che è la scrittura, la capacità di prendersi, di raccoglierci, di portarci da qualche parte. Quindi invito il nostro segretario Riccardo Bernardini che è anche il direttore di una scuola di specializzazione in psicoterapia che ha organizzato questi incontri e invito la scrittrice Chiara Gamberale a venire sul palco. Riccardo. Al Paese ci conoscevano tutti, i senza niente, i senza niente, i senza niente, i senza niente, continuavano a chiamarci, per via dei miei nonni, i genitori di mio padre, che dopo la guerra e il poco che avevano se l'erano perso. No che non te lo do un litro, aveva detto la vecchia della latteria a Rocco. Mio fratello ha tre giorni e mia madre non ha latte. Le tette secche si curano, basta massaggiarle con un panno d'acqua calda. Ci ha provato, non esce niente e c'ha la febbre alta. Mi dispiace, io il latte però non te lo posso dar. Se no finisce come quando era nata l'altra sorella tua. Latte, latte per voi e mai una lira per me. Ha detto papà che entro domenica ti fave tutti i soldi pure quelli di due anni fa. Allora quando li vedo ti do il latte e un'altra bottiglia ve la regalo io. Dopo tre giorni la madre di Rocco sarebbe morta e Rocco dopo 22 anni sarebbe diventato mio padre. Allora ne aveva nove. Da quelle non si entra, mi diceva quando passavamo davanti allo spaccio in cui si era trasformata la latteria. A costo di non fare la spesa lì, se l'altro spaccio del paese per qualche motivo era chiuso, prendevamo la corriera e andavamo al paese vicino. La macchina è arrivata quando facevo la prima elementare. Un giorno sono tornata da scuola e l'ho trovata parcheggiata davanti a casa nostra. Blu. Gli altri bambini delle case basse, il pezzo del paese dove abitavamo, l'ultimo pezzo, il più lontano dal centro e ingoiato pure ad agosto dall'ombra del panettone. Così chiamavamo il monte che ci separava dalla piccola città. Giravano attorno alla macchina, gli occhi allucciolavano e diventavano tutti dello stesso colore, pure loro blu. Mia madre era incinta dei gemelli e si accarezzava la pancia e si guardava la scena e rideva da sola. Adè, hai visto? Sì. Ho fatto cenno con la testa, ma qualcosa in gola mi incollava i pensieri e i pensieri non li faceva volare fuori, diventare parole. Adè, siete diventati ricchi? Mi ha chiesto Caterina. Andavamo e tornavamo da scuola sempre insieme. Era nata un mese prima e due giorni dopo di me. Ricchi? Hanno cominciato a ripeterlo uno per uno gli altri bambini e poi in coro. Ricchi? 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 Io ho guardato mia madre che continuava a guardarsi la scena e a ridere e mi pareva che anche le sue mani, i capelli e la pancia e il cappotto si facevano blu. Allora ho pensato, boh, forse i più ricchi dei più poveri. Ricchi no, di sicuro. Ricchi mai. Ricchi noi. Com'è possibile? Ma pure quel pensiero non sono riuscito a farlo volare fuori. Quando mio padre è tornato dalla macelleria la sera, invece di tenere il mento schiacciato sul babbero del giaccone, come sempre, teneva la faccia alta. Si era andato a fare i capelli dal barbiere. Per la prima volta gli ho visto le guance. Erano lisce e lisce, le basette dritte, scolpite. Ha aperto lo sportello della macchina e mi ha detto sali. I sedili puzzavano fortissimo di qualcosa che non conoscevo. Che puzza? Ho detto a mio padre. Non è puzza, è profumo. Allora i sedili profumavano fortissimo di qualcosa che non conoscevo. Siamo arrivati al paese vicino, dove da poco avevano aperto un pastificio. Abbiamo comprato tre cannoli alla crema. Ce li hanno avvolti nella carta argentata. Finito di cenare, mia madre ha portato a tavola il pacchetto e l'ha aperto. Sembrava una festa, ma nessuno lo diceva. È una festa. Perché chi parla delle cose belle prima o poi le perde. Mio padre era convinto di questo. Infatti, quando siamo diventati ricchi per davvero, non me l'ha spiegato lui, non me l'ha spiegato mia madre. L'ho capito da sola un pomeriggio. Avevo finito le prove per l'esame di terza media e avevo raggiunto Caterina al Pratone. Il pezzo del paese dove quando faceva bello si poteva passeggiare, salire sull'altalena, andare in bicicletta o starsene così a chiacchierare e a mangiare un cremino. Le ho chiesto proprio pigliamo un cremino? Sì, ma me lo compri tu? Mia mamma mi ha detto che ormai avete i soldi che vi escono dal naso. Aveva una voce che non l'avevo sentito mai e che dopo quel pomeriggio avrebbe avuto sempre se si rivolgeva a me. Una voce che mi faceva venire voglia di andarmi a nascondere, scappare via veloce, come scappa chi ha rubato. Grazie a Elettra Mallaby, che sarà la nostra lettrice di questa sera e anche la curatrice dell'audiolibro del Grembo Paterno. Sono molto emozionato. Bello curatrice, perché è vero che se l'è proprio curato, non l'ha solo letto. Ha generato qualcos'altro, a partire dal testo. Quindi con grande emozione che do anch'io il benvenuto a Chiara Gamberale. Inauguriamo un dialogo inedito, almeno nel contesto pubblico, e so che potrebbe capitare di tutto questa sera. Quindi tu non hai voluto sapere le domande, quindi ci sarà un elemento di sorpresa. Mi piacerebbe, prima di trattare dei contenuti del testo, darvi qualche indicazione su come sia nato anche questo progetto. Come il presidente Marenco ha accennato poco fa, la nostra idea è di provare a indagare la dimensione della creatività secondo uno sguardo più psicologico. Ecco, avevo pensato di farlo interpellando alcuni tra gli autori più noti e amati della letteratura contemporanea, Chiara Gamberale, Emanuele Trevi, Massimo Gramellini, i quali non si sono però limitati a accogliere un invito, ma soprattutto Chiara, se mi permetti, sei stata anche una lunga mano o una mente che ha contribuito anche a ideare questo stesso progetto a partire dal titolo stesso. E pertanto ti siamo davvero riconoscenti per la fiducia. Il grembo paterno, che dà il titolo a questo nostro primo appuntamento, è un testo denso, teso, tormentato, tortuoso, che ci pone a confronto con uno dei temi che ha attraversato lo sguardo psicologico, psicoanalitico, fino dai suoi albori e che ci interpella direttamente sul mistero della soggettività. Chi siamo come soggetti, come individui, come ci strutturiamo, come ci configuriamo, come veniamo al mondo psicologicamente. Ecco, la psicoanalisi in forme diverse ha declinato questa riflessione a partire dalla grande narrazione tipica di Freud, la sensibilità archetipica di Carl Gustav Jung, le ricerche sulla psicologia infantile di Bowlby, che tu peraltro citi anche nel testo, sulla rilevanza degli stili di attaccamento familiari per la vita adulta. Quindi a più riprese, in forme diverse, la psicologia si è interrogata sul peso che le storie altrui hanno nella nostra soggettività attuale. Quindi chi saremmo senza i nostri genitori, psicologicamente. Ecco, in modo emblematico, tu ci racconti di una Adele che dopo avere fortemente evoluto una bambina, Frida, la quale però arriva senza una casa o senza una famiglia, incontra una persona, tu usi sempre queste metafore straordinarie che arrivano dritti al cuore, che le bussa dal sangue. Ecco, Nicola, il pediatra e neuropsichiatra di sua figlia, un uomo che invece è legato da un antico vincolo a una casa, una donna, una famiglia, che costringe Adele, da un certo momento in poi, a un confronto sempre più serrato col proprio passato e in particolare con la presenza pervasiva di una figura paterna che sembra addombrare le sue possibilità di vivere liberamente il presente. Quindi quello che mi piacerebbe iniziare a chiederti è come tu, a valle dei tuoi lavori letterari, a valle delle tue letture, interpreti il mistero della soggettività. Quanto pesano le storie degli altri, le storie familiari, le presenze genitoriali, per dirci chi noi siamo adesso e chi possiamo essere? Forse era meglio se me le dicevi prima le domande. Io te l'ho detto. Buonasera a tutti, grazie. Grazie di essere qui, grazie Riccardo. Io ho un forte problema con la noia, quindi sono sempre infinitamente grata alle situazioni in cui mi ritrovo per la prima volta. Dunque, c'è questo... Nei miei romanzi dal primo addirittura, ormai tanti anni fa, il mio primo romanzo è uscito nel 98, figurate, no? C'è questa cosa, la scrittrice psicanalitica, che non si sa bene che... un po' questa... Questa sera, ma aspetto forse che me lo riveli questa sera, che cosa vuol dire questo? Di sicuro io, i miei romanzi affondano le mani, lì. L'hanno fatto tutti, tutti quelli precedenti, e questa volta lo fanno in una maniera forse anche più... Questo romanzo lo fa in una maniera anche più sfacciata, nel senso che se nei miei romanzi precedenti abbiamo visto uomini e donne fare fatica a avere tanta paura quanta voglia di stare al mondo e dunque di amare, di chiedere e di dare amore, qui si va un po' alle origini di quella fatica e di quella voglia. Allora, scrivendo questo romanzo io credo di poter avere una vaga idea della risposta alla tua domanda, perché a questo romanzo forse avevo affidato proprio questa domanda, e tant'è, di solito quando i lettori mi raccontano la loro lettura dei miei romanzi, è sempre molto simile, le loro sensazioni sono sempre molto simili alle mie mentre scrivevo. E in effetti quello che finora mi viene raccontato di questo romanzo è che angoscia, ma alla fine che liberazione, è quel male che fa bene, è che è esattamente quello che io ho provato scrivendo questo romanzo. Rimane un rimpianto alla fine della storia di Adele, mi rimane un rimpianto di dire, certo che peccato che non si può rinascere un'altra volta nel momento in cui siamo diventati, ci siamo davvero avvicinati alla persona che potremmo essere o che siamo, perché io credo che scrivendo questo romanzo ho capito che non è che, forse nasciamo noi, ma veniamo compromessi molto presto nei primi anni. E a me, io mi sono commossa più volte scrivendo questo romanzo, perché Adele per me rappresenta proprio lo sforzo dell'essere umano che viene al mondo, viene compromesso da quelle due figure, o da una figura, la madre, il padre, se c'è la madre e il padre, dal padre e il padre, dalla madre e la madre o dalla madre, da chi c'è, da chi l'ha messo al mondo o accoglie o accompagna la sua prima crescita. La persona che noi appunto ci mettiamo talmente tanto, che cosa succede? Che tutto il percorso dell'essere umano, secondo me, nel mondo è proprio la possibilità di trasformare quell'amore che ha ricevuto da bambino in amore, però in un amore più adatto alla persona che è. Questa poi è la scommessa, secondo me, del nostro attraversare la vita. C'è uno scrittore che io amo moltissimo, Michele Mari, che finisce una raccolta di racconti Tu sanguinosa infanzia e finisce dicendo è successo tutto laggiù. Io voglio sperare di no, cioè è successo quasi tutto laggiù, possiamo noi fare la differenza e purtroppo prima ce ne dobbiamo accorgere, prima subiamo, poi ce ne dobbiamo accorgere, poi dobbiamo avere il coraggio di camminare. È lungo questo percorso, quindi io credo che però ci si possa avvicinare sempre di più, ecco, alla persona che siamo. Che significa la persona che siamo? Per me significa... Per te che significa? Perché poi ti dico per me che cosa significa, però mi interessa... Che cos'è? Che cosa diciamo? Quando diciamo la persona che siamo, che cos'è? Ma sai, ci sono visioni molto diversi. In questo momento io rappresento anche un ordine professionale, quindi il mio punto di vista è delicatissimo, perché si alzerebbe sicuramente qualcuno in sala dicendo no, ma la mia prospettiva in realtà prevede qualcos'altro. Ma diciamo che trovo molto sfidante, non che io sia completamente adeso a questa visione, ma trovo molto sfidante la tua idea di compromissione, cioè qualcosa che rischia a un certo punto dell'esistenza di venire manomesso, compromesso. Molto presto. Molto presto, è interessante. Ci riporta un'idea di un allievo di Freud che era l'anarchico rivoluzionario Otto Gross che immaginava che il bimbo si scontrasse da subito con un conflitto tra il proprio, cioè che appartiene veramente a lui, e l'altro, ovvero l'influenza familiare. Però è una visione tra tante visioni che la psicologia porta con sé. Però io credo che ad esempio nel momento in cui non a caso questo viaggio a ritroso, come hai detto tu perfettamente, Adele lo comincia perché si innamora e anche perché è diventata madre da poco. Cioè ci sono quegli eventi scatenanti, sono pochi, cioè gli eventi traumatici nel bene e nel male sono che sono? La malattia o la morte di qualcuno che ci è caro, l'amore, la nascita di un figlio, e l'abbandono forse, forse anche. Però la riporta ad aprire quei conti. Ma quando due persone si incontrano e si innamorano e si bussano al sangue, non sono mai due, ci sono sempre quei due lì, mamma e papà, no? Quindi chissà se quello che pensiamo che sia un nostro desiderio in verità era la paura di un padre oppure quella che è una nostra paura in verità era il desiderio frustrato di una madre. Sì, io credo che la persona che siamo, almeno Adele, è una persona che possa non subire ma vivere le sue paure e i suoi desideri. Ecco, cioè che possa non essere, non subirli ma in qualche modo anche io questo penso e credo che sia più o meno questo che succede ad Adele dopo questa lunghissima notte che la porta ad attraversare 40 anni di vita alla fine, no? C'è un sogno a un certo punto, come se fosse un'esperienza di ritorno al passato e come in un sogno lei torna molti, molti anni prima e rivive. Io devo stare anche molto attento perché non devo svelarvi troppo perché penso che qualcuno di voi forse non abbia ancora letto il libro. Quindi se alcuni passaggi si uniranno un po' ermetici è perché vorremmo tutelare anche il doveroso segreto su questo testo. Io passerei alla seconda tappa della nostra liturgia. Quella gonna è troppo corta diceva quando ti pitti gli occhi mi pari un pagliaccio mentre mia madre come si vestiva si vestiva per lui andava sempre bene era come se per farsi perdonare che i baci che le dava non erano baci che mancava qualcosa e invece c'era sempre quella cortesia di troppo che con l'amore non c'entra niente la risparmiasse dalla furia ma dove non c'è furia avrei scoperto molto più avanti e fino in fondo solo con Nicola i baci non possono che essere altro dai baci fra tutti i sensi di colpa allora è il più infido quello che ci fa essere davvero feroci solo con chi non avremo nessun bisogno di amare eppure amiamo mentre ci impedisce di esserlo con chi abbiamo un gran bisogno di amare ma dunque fino in fondo dove il fiato si fa corto non amiamo e mentre ci sforziamo per provare almeno a rispettarlo a non ferirlo proprio così lo feriamo non lo rispettiamo finiamo comunque per essere feroci che sia un uomo una donna un figlio un cane possiamo amarlo dove il fiato si fa corto oppure no lì non ci raggiungerà mai non è detto sia questo il motivo per cui scegliamo la persona che sposeremo con cui finiremo i nostri giorni anzi se almeno una volta una soltanto io avessi scelto senza fidarmi del fiato corto magari stanotte Frida dormirebbe nella sua cameretta di là e con me in questo letto ci sarebbe mio marito ma è difficile che chi quando ancora non poteva capirci niente dell'amore è stato amato col fiato corto poi cresca e ami chi gli permette di prendere respiri lunghi a pieni polmoni infatti non interrompere sei brava sei brava ad ascoltà solo la voce tua guarda che gli altri non sono mica opinioni esistono bisogna che li rispetti diceva a me solo a me sempre a me e io sentivo una tonnellata di rocce cadermi addosso non erano i rimproveri era la responsabilità di tutto quell'amore tutto il suo amore grazie Elettra prima di farti partire con la seconda mi è venuta in mente mentre leggeva Elettra e mentre continuavo a riflettere sulla tua domanda che ieri sera io appunto vivo con mia figlia a quattro anni e non sono molto abituata a lasciarla allora ieri ci siamo sentite al telefono prima che si addormentasse e le ho detto oh mi raccomando allora sogniamo tutte e due questa notte Euro Disney perché così presto ci andiamo così siamo collegate e lei sai mi ha risposto a proposito della non comandi il mio cervello ma tutta la notte sono stata però ecco non so se sia perché tutto un lavoro non lo so però ecco non comandi il mio cervello l'ha detto si stava addormentando però ha detto mamma ma non comandi il mio ma neanche con cattiveria non comandi il mio cervello e per dire che il linguaggio dei bambini poi è simile al linguaggio dei sogni no però qualcosa ci dice sul pericolo di quegli anni lì è già un talento vita insomma del tutto casual l'orologio rotto che ha ragione due volte al giorno padre e madre sono gli esseri umani che per primi trasmettono le leggi che tengono insieme e plasmano non solo le famiglie scriveva Jung commentando Freud ma i popoli e anzi l'umanità intera non solo le leggi escogitate dalla mente dell'uomo ma le leggi di natura tra le quali l'uomo cammina come sulla lama di un rasoio Freud aveva già tirato l'attenzione sul fatto che il rapporto con i genitori e in particolare il rapporto con il padre abbia un'importanza decisiva per i contenuti di una futura nevrosi in età adulta quindi la qualità del rapporto che ho avuto con mio padre darà la forma alla mia personale nevrosi il rapporto con i genitori è anche il canale infantile per eccellenza in cui nel momento in cui incontra un ostacolo la nostra libido l'energia psichica attuale torna a rifluire e in tal modo riattiva contenuti infantili ricordi sentimenti immagini da tempo dimenticati che è quello che accade penso proprio ad Adele ecco molta psicoanalisi si è interrogata e si sta ancora interrogando non solo la psicoanalisi ma anche l'infant research sul ruolo che ha la mamma la madre nelle primissime esperienze infantili ma il padre che importanza ha nel destino di un individuo secondo te dunque il titolo naturalmente nasce da una provocazione il grembo il grembo paterno perché siamo molto abituati per sua stessa natura al grembo materno però io credo che appunto abbiamo imparato a chiedere a dare amore non solo nel grembo materno ma anche nei grembi paterni hanno la loro la loro responsabilità non a caso in questo in questo romanzo poi appunto io non non sono un in questo senso ecco io racconto il mestiere dello scrittore quello dello psicanalista stanno bene insieme ma proprio perché sono diversi anzi io proprio raccontando le mie storie vengo a accetto il mistero forse anche la psica però qua sarebbe un discorso troppo troppo ci porterebbe da 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 qualche altra parte però io volevo entrare proprio laggiù volgarmente una volta ho sentito qualcuno che diceva non mi ricordo davvero neanche chi che diceva le madri il grembo materno cioè la madre sono gli affari interni è il ministero degli affari interni mentre il padre degli affari esteri come a dire la madre forma e deforma il nostro rapporto con noi stessi il quindi con le nostre emozioni con i nostri sentimenti con il nostro pensiero quindi tutela e mette a rischio quel rapporto mentre il padre la figura del padre tutela e mette a rischio il nostro rapporto le relazioni la relazione col mondo prima di tutto il lavoro le relazioni non lo so secondo me è tutto un po' più devo riusare contaminato però almeno pensando al mio caso credo che sia stato così nel caso di Adele inevitabilmente nel momento in cui quest'uomo i padri protagonisti del romanzo sono due c'è il il padre contemporaneo chiamiamolo così Nicola che è il padre di oggi è un padre che intanto che sa parlare poi delle parole parleremo ok mentre invece il padre di Adele è proprio volgarmente il padre edipico diciamo così che si dice siamo passati dalla società di Edipo a Narciso sono loro due potrebbero essere due rappresentanti delle categorie io credo che la figura del padre mi sono fatta un'idea che al di là dei ruoli senza dubbio nelle famiglie succeda qualcosa anche di misterioso fra due esseri umani che possono essere la madre e la figlia la madre e il figlio due fratelli cioè che in ogni famiglia mi sono fatta l'idea ci possa essere al di là dei ruoli rivestiti una scintilla e che quindi rende più responsabile una delle due figure rispetto all'altra senza dubbio la storia di Adele è una la storia d'amore di Adele con Nicola la rimanda alla sua storia d'amore primitiva che è quella col padre abbiamo sentito Elettra che dice il padre mentre la moglie è la classica famiglia viene Adele dalla classica famiglia in cui quest'uomo ha sposato questa donna non perché lo appassiona ma proprio perché non lo appassiona perché la passione lo sappiamo ci fa perdere il controllo quest'uomo l'abbiamo sentito all'inizio dalla lettura di Elettra non può permettersi di perdere il controllo perché un uomo che ha una madre morta di fame deve affrancarsi da quella situazione quindi ha bisogno di quella e poi si faceva così all'epoca la nonna diceva ama chi non sposi e sposa chi non ami dunque tutta quella furia doveva finire su questa figlia diventa lei però anche la figlia a un certo punto si interrogerà e dirà perché sui miei fratelli no? proprio perché secondo me nelle famiglie come nel mondo è il primo spazio in cui ci possono essere degli innamoramenti che quindi sono all'insegna del mistero dell'irrazionalità dunque il padre diventa in questa storia assolutamente fondamentale per la formazione e per la deformazione non solo delle relazioni di Adele ma anche del rapporto con se stessa io credo che più o meno sia questa la risposta perché non tenderei a generalizzare la responsabilità dei padri è qualcosa su cui io mai come in questo momento mi interrogo mi interrogo tutti i giorni perché di sicuro poi mi ero già interrogata come so fare io scrivendo storie su questo nelle luci nelle case degli altri dove il protagonista è un condominio c'è una bambina che non sa chi è suo padre e viene adottata perché le madri lei sa che il padre è in quel condominio le madri non hanno il coraggio di fare il test del DNA perché scoprirebbero che uno dei loro mariti le ha tradite quindi adottano tutti insieme quindi questa bambina cresce con cinque padri quindi in quel caso la domanda me la sono fatta attraverso questa storia non credo che si possa generalizzare parlando di responsabilità dei padri come di responsabilità delle madri penso che sia sempre una storia che porta con sé il destino di un carattere di un in questo caso senz'altro è lì è grazie per colpa di quel rapporto lì che Adele si ritrova ad essere l'adolescente che è prima e poi la donna che diventa dopo in un secondo momento terza tappa e stanotte che lo rivedo seduto su quella sedia ad asciugarsi la fronte capisco che non ero io l'unica era lui l'unico non è stata la prepotenza del suo amore per me che mi ha costretto a prestarmi a tutti senza consegnarmi mai a nessuno ero io ero io che volevo galleggiare lì dentro nel grembo paterno a succhiare mescolato nel sangue l'incantesimo di quel latte per cui quando aveva nove anni la vecchia della latteria non gli aveva fatto credito e che forse avrebbe potuto salvare sua madre a succhiare la sua furia il suo bisogno di chiedere ancora e ancora a succhiare l'impossibilità di restare ma pure quella di andarsene via e però a farlo da lì dentro perché finché si galleggia lì dentro almeno si è in due finché galleggiavo lì dentro almeno eravamo in due due senza niente che avevano tutto e di quel tutto non sapevano proprio che cosa farsene fuori da lì invece ero sola sarei per sempre stata sola ecco la potenza di questo testo noi seguiamo la narrazione da un certo punto in poi veniamo trasportati in un'altra dimensione nel mondo del sogno nel regno del possibile ciò che accade della fantasia incestuosa psichicamente incestuosa è un immergersi della nostra energia psichica nell'inconscio di grembo originario da cui la nostra coscienza eroicamente si è individuata e venuta a se stessa si vedono gli straordinari studi psicoanalitici parlo per i colleghi soprattutto sull'arte le riflessioni dello psicologo israeliano Erich Neumann sulle sculture di Henry Moore le cui forme plastiche sembrano ancora sostare su quell'incerto crinale che separa forme e informe creato e increato ecco se noi sostituissimi però alla connotazione univocamente sessuale della regressione del ritorno al mondo del sogno quella nutritiva ecco potremmo vedere in questa reimmersione ciclica anche un senso compensatore terapeutico e creativo quindi Adele tornando nell'illud tempus in quel tempo là certo va incontro al pericolo di Teseo e Pirito cioè rimanere agganciata alle rocce però lì c'è anche una sorta di germe rigenerativo o di possibilità individuativa beh questo è il tema di Giona il tema biblico di Giona che intravede nel ventre della balena quei misteri che Goethe avrebbe spesso in modo magistrale per bocca di Nefistofele dov'è la via chiede Faust nessuna via verso l'inesplorato inesplorabile verso l'inesorato inesorabile e allora inabissati ma potrei dire allo stesso modo ascendi è un tutt'uno fuggi da ciò che è foggiato verso i regni delle forme possibili compiaciti in ciò che non è più come fuga di nuvole si intreccia il via vai delle creature che furono ecco Goethe però parlava di questa immersione nei termini di regno delle madri tu invece usi un'altra metafora ibrida un grembo però paterno c'è un qualche significato in questa ibridazione quindi non solo sono solamente più una lettura androcentrica di tensione verso un femminile che rigenera ma una lettura ermafroditica maschile e femminile al tempo stesso o dove vengono sì guarda è molto a Torino succedono sempre a me succedono sempre cose magiche nel senso che questo romanzo io sono venuta a presentarlo appena uscito dopodiché ho avuto l'occasione di presentarlo con mi hanno chiamato il centro Tullio De Mauro quindi con Chiara Saraceno dunque è stata una lettura sociologica del testo praticamente non ne resiste uno del personaggio proprio la Chiara Saraceno sono moralmente inaccettabili adesso questa lettura qui che è quella che mi trova più curiosa inevitabilmente io sono è stata troppi anni dall'altra parte rispetto a te proprio dall'altra parte della della barricata per non per non pendere proprio dalle tue labbra mentre parli Riccardo certo il maschile il femminile c'è una pagina intera su questo perché non a caso hai scelto tutti i brani è vero si racconta una storia in questo romanzo e ciclicamente la storia si ferma e si va appunto come si va lì giù o forse lassù chi lo sa in quel chissà dove e e lei parla l'avete sentito dalla lettura di Elettra ed è una voce proprio del dell'incoscienza quasi no dove che poi attraverso quella quella voce che noi arriviamo faticosamente a quella a quella meta di cui parlavamo all'inizio di questa chiacchierata il maschile il femminile chi lo sa questa donna io ho voluto raccontare una donna a un certo punto lei parlando con la bambina che le è arrivata tu prima hai detto è l'unica cosa con cui non sono d'accordo con te all'inizio hai detto ha desiderato fortemente questa figlia beh l'ha fatto un po' per poi ha scoperto di amarla moltissimo però è arrivata in una maniera vedrete tanto poi ci rivediamo perché questo è il primo di tre incontri e anche chi non ha letto il romanzo potrà potremmo aprire un dibattito su questo perché mi mi interessa lei si chiama Adele e da quando è ragazzina si è ritrovata a condurre un programma che si chiama L'Adelescenza lei si è ritrovata in televisione in una maniera anche lì rocambolesca e quando compie 39 anni il produttore le dice basta a fare l'Adelescente no? L'Adelescenza che ovviamente è metafora di 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 una di un tipo di persona che fatica a uscire da quel limbo dove per risponderti il maschile il femminile ci puoi no? dunque non a caso io quella della fecondazione assistita di Adele che sia un desiderio fortissimo o che come l'ho interpretato io sia un gioco adelescente che lei si ritrova un po' a fare non ci crede neanche vedrete com'è che succede comunque la metafora portante di questo è poi attorno di tutto il romanzo è che lei a un certo punto mentre si rivolgerà alla figlia dice figlia tutta madre di una figlia troppo padre no? Cioè dove forse appunto si è galleggiati nel grembo paterno dove è stato quello per una serie di motivi o forse per nessuno il grembo elettivo benedetto e maledetto dove ci siamo formati e deformati è difficile a quel punto giocarsi la partita con con l'altro dell'altro sesso è difficile e dunque il maschile e il femminile chi lo sa che cosa che cosa diventano se tu sei la fidanzata di papà come fai a giocarti a pieno la tua partita col tuo femminile nel mondo e qui non vuol dire che ti piacciono le donne o gli uomini ma come fai a giocartela e come fai a giocarti la partita col maschile che sta che sta là fuori io per rispondere a queste a queste domande appunto io non non ho fatto io sono una creativa e quindi io ho inventato per rispondere a questa a questa domanda questa questa bambina figlia tutta figlia tutta madre di una figlia troppo padre mi è venuta insomma questa questa creatura un po' un po' zodiacale che poi è è Frida la la vera scintilla che che mette in atto la possibilità di una di una rivoluzione dentro 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 ad ele sul punto in cui non concordiamo secondo me potremmo parlare poi nella nostra quinta tappa cioè da dove parte il desiderio è qualcosa di cosciente o come forse anche le neuroscienze ci stanno dimostrando c'è un qualcosa che anche somaticamente si attiva ancora prima che io abbia la consapevolezza di fare qualcosa da dove parte il desiderio però rimanderei alla nostra quinta tappa la discussione prego lo vedi il bambino non c'è niente da fare in certe persone lo vedi ti salta in braccio appena le incontri loro alzano gli occhi per mettere a poco chi sei sono assolutamente convinte di poterlo sapere davvero ed eccolo lì il bambino oppure sbuca fuori all'improvviso da un broncio da un silenzio da un sorriso che non c'entra niente da un muscolo qualsiasi che tradisce la faccia mentre ti implora non mi abbandonare pure tu dai perché altrimenti urlo e di chi ha ragione non me ne frega niente non è avere ragione che conta è che mi ami solo quello conta sì no voglio vedere perché se mi ami quando faccio il bravo neanche quello conta mi spiego possono avere 20 40 70 102 anni le persone ma se il bambino lo vedi lo vedi c'è ci sono quelle dove invece non lo vedi anzi ti pare proprio impossibile che un giorno siano state piccole circostanza che invece deve pure essersi verificata eppure a immaginarle che dicono bah per dire albero a immaginarle che si fanno la pipì addosso che vedono per la prima volta un maiale che sbattono i piedini per aia dal loro fasciatoio dopo il bagnetto con il culetto al vento non ce la fai perché sono così cresciute nel frattempo così inevitabilmente cresciute sono diventate intelligenti sensate hanno le loro opinioni che sono quelle fanno le loro scelte quelle e per le strade dei giorni si orientano benissimo camminano diritte agli altri e a loro stesse amiche per dirla con montale mentre le altre persone quelle dove vedi il bambino procedono con il passo ubriaco di chi ha da poco smesso di gattonare fanno confusione possono finire per sbattere contro qualcosa che era molto prezioso per te e romperlo ma non lo fanno apposta come se non bastasse il più delle volte proprio mentre rompono qualcosa di tuo si fanno male pure loro si spaccano la testa si schiacciano un piede gli va a finire una scheggia di vetro in una mano e così via sono a conti fatti più pericolose delle persone inevitabilmente cresciute le persone dove si vede il bambino ma ti viene da perdonargli tutto perché appunto ti pare che non lo facciano mai apposta non fanno apposta neanche quando sono gentili con te amorevoli ma anche questo che ci posso fare so benissimo che dovrebbe innervosire e invece a me commuove mentre i gesti gentili delle persone inevitabilmente cresciute mi lasciano sempre un po' perplesso e poi ci devo pensare su è tutto davvero complicato si rischia di prendere parecchie cantonate non c'è dubbio ma se ne conosci un po' di persone un modo per capire chi hai davanti devi comunque trovarlo trovandoci a progettare il senso di questi incontri quindi cercando di capire anche come andare a sviscerare il tema della creatività abbiamo immaginato anche di esplorare la parte più umbratile di questo concetto quindi le insidie i pericoli gli usi impropri dell'atto generativo a fianco ovviamente delle sue promesse i suoi doni le sue potenzialità ecco l'insidia che si nasconde dietro Nicola il pediatra della figlia di Adele e a cui Adele non si mostra insensibile è forse la creatività che diventa seduzione l'arguzia che diventa malizia l'intelligenza che diventa controllo il potere della parola che diventa gioco dei sentimenti in psicologia siamo sempre molto attenti a mettere in guardia i nostri pazienti nel momento in cui portano in analisi dei sogni o trasferiscono artisticamente dei prodotti onirici delle testimonianze interiori per esempio nel disegno nella scultura o attraverso delle tecniche corporee da due possibili pericoli due possibili insidie in questo processo che tecnicamente noi chiamiamo oggettivazione tradurre qualcosa che non esiste materialmente in un qualcosa di oggettivo e questi pericoli sono da un lato l'estetizzazione quindi perdere il significato curando l'estetica la critica formale e la razionalizzazione ovvero preoccupandosi del contenuto affettivo che potrebbe essere qualcosa di molto disforico o spiacevole o provocatorio quindi la critica morale il Tao il significato la via è quello strettissimo crinale che separa questi due versanti ma sappiamo anche però come ci insegna forse la musica assieme alla scrittura che la tecnica non è un qualcosa che necessariamente contrasta l'anima se pensate anzi la tecnica diventa lo strumento per estrarre alchemicamente l'anima dovrebbe essere così ma quando però la padronanza della tecnica ovvero il linguaggio di Nicola diventa invece uno strumento di seduzione di controllo di manipolazione questa proprio ce l'ho allora allora su questo sono perché mi sono interrogata moltissimo parlavamo prima no 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 io mi sono interrogata moltissimo su questo perché dicevamo che Adele cresce in una famiglia tradizionale dove le parole più importanti sono quelle che non devono essere dette ma perché i genitori ma io credo che tante persone della mia generazione hanno avuto quel tipo di genitori in cui le parole erano state mi passi la pasta ne vuoi ancora vuoi ma io sai che oggi a scuola è successo altra pasta non lo sanno fare ma non è colpa loro non le parole sono infatti troverete che proprio all'inizio state zitta Adele io mi sono poi con la lingua appunto ho giocato è un meridione un po' inventato io sono di origine molisana e quindi non è un ho proprio inventato una lingua solo per rappresentare il fatto che le nostre vite tutte parlano almeno due lingue quella no della nostra infanzia è quella poi di noi se non tre siamo poi genitori quella che noi ci ritroviamo a parlare con chi viene dopo e quindi questi silenzi e lei strano crescendo avrà dei serissimi problemi nel momento in cui arriva l'adolescenza arrivano i sintomi con che cosa con le parole e con il cibo strano perché appunto naturalmente lei passa lei viene fuori logorroica tutto il libro è un suo cercare un equilibrio fra una logorrea e un non riuscire a dire le parole fra una bulimia e un rifiuto del cibo perché appunto fame è una parola è la parola di questo di questo romanzo e che darà il titolo anche a un'operazione spregiudicata che lei Adele ragazzina si ritroverà a subire vedrete un'operazione televisiva spregiudicata spregiudicata dove lei viene tirata dentro e dove si ritrova involontariamente protagonista lì sì senza desideri si ritrova lì e dunque che uomo io volevo che bussasse al sangue ad Adele naturalmente Adele è molto sensibile a chi le parole le sa usare questo testo queste parole che avete sentito letto dai lettri a Mallaby sono le parole Adele incontra Nicola in una visita cui porta sua figlia e le scatta il mistero perché lui non c'è un punto non la chiama Ade che era come la chiamava il padre quindi sono sempre misteriosi i motivi per cui ci innamoriamo di quella persona e di quell'altra no quindi anche qui è una parola poi lo vede in questa conferenza dove fa questa no e dice si vede tutte queste belle parole e lei inevitabilmente dice eccolo qui un uomo che eccole le parole di cui io sono stata sempre affamata se non che Nicola è uno di quelle persone che utilizza la parola appunto non solo come forma di seduzione ma anche come evasione dalla realtà della sua vita mentre Adele è una persona che affida alle parole la speranza che abbiano proprio a che fare con una ricerca cioè lei pensa proprio che si possono usare in quel modo io sono come lei io non avrei mai cominciato a scrivere se non credessi di sicuro i miei romanzi possono piacere o possono non piacere ma di sicuro c'è sempre butto le parole e io infatti non riesco a scrivere se prima ho l'urgenza di raccontare qualcosa poi devo capire come raccontarla che non è un modo per raffrendare la faccenda o andare in due territori dove non me ne frega niente da andare e dove che sono appunto l'estetizzazione o la razionalizzazione ma proprio la forma che trovo le mie storie è l'unica possibilità che quell'urgenza ha per raccontarmi qualcosa per quantomeno aiutarmi a farmi le domande giuste non dico a trovare le risposte ma inevitabilmente se io che mi fido così tanto delle parole incontro qualcuno che le sa usare così bene inevitabilmente io crederò che c'è la stessa ricerca mentre invece Nicola è un uomo che le sa usare molto bene ma è un giocoliere delle parole sono un posto dove lui si rifugia non sono un posto dove lui si mette si mette a rischio sono perché appunto e qui vedrete a quel punto se nella prima parte del romanzo la bestialità del padre di Adele vi potrà anche lasciare un po' interdetti io credo che se l'amore ha a che fare con l'uscire da quello che ci viene naturale fare o facile fare io credo di sì credo che abbia a che fare con questo l'amore sarà più capace di un gesto d'amore quel padre così analfabeta ma analfabeta nel senso alessitimico oh un contesto in cui la posso usare questa parola così cioè analfabeta in quel senso lì anche in un altro però sarà più capace di un gesto d'amore lui che Nicola che con tutte le sue belle parole quella capacità di usare le belle parole non è un pifferaio magico solo per gli altri ma anche per se stesso perché non diventano le parole il filo di Arianna ma il labirinto diventano parole generative no non sono generative certo senti mi rimane moltissimo questa cosa che hai detto il fidarsi delle parole espressioni che tu usi in questo testo straordinario che umidità o bussare al sangue possono essere usate solo da chi si fida dalle parole ed è questo che secondo me ti fa arrivare però al cuore dei tuoi lettori qualcuno una volta adesso non possiamo fare nome però che conosciamo entrambi mi disse ma ci sono tanti scrittici bravi però Chiara è l'unica che sa arrivare lì e io penso che questo tuo saper arrivare stia proprio nell'autorizzarti a andare al di là no di forma e razionalizzazione grazie non so chi è questa persona che è stata così generosa a me poi me lo dirai però insomma sai però essere lui appunto il rischio qual è e questo è un rischio che a giocare così con le parole rischi sempre la voglio dire senza usare cioè perché a Roma non possiamo non essere volgari per dire la cosa che sto per dire però invece voglio essere voglio essere voglio rischi la figuraccia sempre e io non credo che io penso io mi fido degli scrittori che camminano sempre sul crinale della idea geniale e la figuraccia nel senso che nel momento in cui rischi e io credo che delle volte posso aver sbagliato perché se rischi se sei se non ti guardi scrivere perché poi quelli come Nicola un po' si ascoltano parlare no? e se invece appunto affidi alle parole tutta questa e anzi ti io so che quando sto scrivendo arriva sempre un momento quando lavoro a un romanzo arriva sempre un momento in cui dico oddio ma sta cosa non la fa nessuno cioè ma non somiglia a niente e dico ma poi dico ecco allora devo andare avanti che quindi questo rischia di poter piacere o poter non piacere o poter dire beh però no? e questo credo che di dover ringraziare proprio il fatto di non essere cresciuta in un ambiente intellettuale perché quel braccio di ferro contro le polpette di mia mamma pure cattive perché mia mamma neanche sapeva cucinare poveraccia però però quel braccio di ferro io che volevo parlare ecco secondo me come può nascere un linguaggio autentico nel senso perché io tanti miei colleghi le le librerie dei dei loro genitori io le ho adorate nel momento in cui andavo a casa loro io adoravo i miei coetanei che avevano quelle librerie mi hanno poi raccontato che hanno fatto più fatica a ritornare a quel linguaggio originale che desse appunto avere quel rapporto così selvatico fra emozione ed espressione perché per me e questo forse poi è la distinzione quello che distingue un artista da un intellettuale no? e e con mio grandissimo stupore molti intellettuali vorrebbero saperne un po' meno per avere un no? un un istinto artistico meno compromesso bisogna essere un po' cafoni insomma no? Quinta e ultima tappa e poi lasceremo un po' di spazio per il dibattito con il pubblico non realizzavo che cosa stava succedendo e non realizzavo che stava succedendo per di più a me così è andata nemmeno quando ho visto quelle due piccole linee ho realizzato non lo realizzo ancora ma è allora è allora che ecco sono diventata tutta corpo a ogni chilo era più leggero come se ospitarne un altro gli consentisse finalmente di accedere alle sue gambe ai gomiti godere dei talloni mi sentivo forte bellissima perché proprio lui quel corpo troppo magro comunque grasso troppo grasso comunque magro sfidato offeso liquidato prestato a chiunque me ne chiedesse un po' ha detto adesso basta adesso comando io e non c'è stata più nessuna distanza che sapessi volessi tenere dal puntino che poi si è trasformato in un limone in una cocorita in una scimmia ballerina che si muoveva nella mia pancia e oggi è Frida mia figlia che stanotte mentre lavorai con me in questo letto è con me in questo letto che ha guarito ammalandoli tutti gli equilibri perché forse è semplice è così quello che ci guarisce è quello che ci ammala e in fondo che cos'è è la vita sono gli altri infatti non si guarisce mai fino in fondo così come fino in fondo non ci si ammala altrimenti quando sono scesa da quel treno dove ero salita con lo zaino carico di un pacco di girelle di una viennetta e di tre cornetti e tutta la pizza che avevo potuto comprare a discount della stazione e dove ho viaggiato chiusa nel bagno del vagone a mangiare a vomitare e ancora mangiare e ancora vomitare non mi sarebbe rimasto nessuno spazio sempre lì dentro per accogliere Lettra che nella più grande delle città mi accoglieva avrei ricominciato a mangiare soprattutto grazie a lei a Davide Giada Luca Rodrigo Elise Valentina a tavola con loro giorno dopo giorno dopo giorno tutto quello che ero abituata ad aspettarmi che a una tavola arrivasse e portasse spavento non arrivava mai un padre una madre il plaf la furia la danza non c'erano genitori eravamo bambini smarriti persone e figli infatti che uno di noi finisse per avercelo un figlio non l'avevamo mai preso seriamente in considerazione grazie siamo arrivati poi appunto perché Elettra Mallaby che oltre a essere una mia la straordinaria attrice che avete ammirato stasera è anche una mia cara amica ed ha anche il nome a un personaggio del libro pensate un po' che però le somiglia non non è lei insomma è sempre un gioco con le parole vivete diceva Jung a decidere tanto sarà l'ineluttabile ecco Frida questa bimba che arriva nella vita di Adele con un effetto dirompente ecco di che cosa ci parla? tu prima non concordavi con l'idea che Frida fosse desiderata non ti è piaciuta questa espressione ci mancherebbe insomma il libro l'hai scritto tu quindi non posso che no no non significa però appunto la questione è da dove è partita l'idea di Frida che cosa ha messo in moto questo progetto io credo che il testo più emblematico che ci mostra come i passaggi determinanti della vita gli snodi cruciali gli incontri liminali che ci accadono il testo più emblematico che ci mostra questa legge segreta della nostra vita sia la divina commedia Dante ci rivela come proprio i passaggi cruciali del suo transito da inferno a paradiso avvengano nei momenti meno attesi c'è qualcuno che ha ipotizzato anche una possibile narcolessia di Dante perché Dante ciclicamente sviene perde i sensi quando capita un qualcosa di troppo grande che non può sostenere ecco il tema dell'imperscrutabilità di ciò che ci accade il tema dell'ineluttabilità di eventi che sono quelli che segnano un prima un dopo che sentiamo che ci riguardano ma rispetto ai quali il vissuto psicologico è quello di un qualcosa che ci piomba addosso che ci accade la lingua tedesca ha un'espressione straordinaria quanto intraducibile che è Ergriffenheit che è anche onomatopeica come espressione Ergriffen significa afferrare vengo afferrato provo un senso di vertigine e vengo portato verso un altrove la mistica dei padri del deserto rispetto al vento il vento del fön o le tempeste di sabbia io sono nel deserto e arrivo un grande vento o chi mi porta via ma chi l'ha mandato da dove arriva perché adesso ecco non so se avete visto un film straordinario del 2017 corpo e anima è una storia d'amore ambientata in un mattatoio ungherese abbastanza particolare come trama e i due amanti prima di incontrarsi nella realtà si incontrano come due cervi in un sogno e non sanno che sono loro lo scopriranno poi solamente dopo ma è come se fosse un incontro già segnato da qualche parte dal destino quindi innamoramento di cui ci parlerai poi anche nel prossimo appuntamento il mistero dell'innamoramento e del sesso dell'erotismo la genitorialità con tutto ciò che porta con sé l'imperscrutabilità di come un sogno ci arrivi perché mi arriva adesso questo sogno ecco ci pongono a confronto con il problema dell'alterità e della nostra irriducibile impreparazione e impotenza di fronte alla spinta della vita c'è qualcosa di tutto questo che tu hai scelto di mettere o hai scoperto man mano che scrivevi questo romanzo lo dicevamo anche all'inizio della nostra chiacchierata c'erano quegli eventi che poi sono quelli che corrono il rischio di trasformarci perché perché abbiamo la possibilità di trasformarci proprio quando appunto siamo afferrati perché non abbiamo più noi il controllo io ad esempio ecco senza fare il tuo mestiere però la vita mi ha a questo punto a cui sono mi ha dato gli strumenti per capire quando io incontro una persona in quelle condizioni io in un mio romanzo che si chiama adesso invocavo la possibilità proprio che i negozi chiudessero quando ci si innamorano che dice per innamoramento perché si è chiusi per lutto si è chiusi però no sarebbe bello anche dire sono chiuso per innamoramento perché anche l'innamoramento l'abbiamo detti prima secondo me quegli eventi sono l'innamoramento l'abbandono questi due anni inevitabilmente mi fanno mettere nell'elenco anche la malattia la morte la nascita di un figlio fondamentalmente è questo sono questi io vorrei rispetto perché quando mi sono trovata io in quella condizione e questo mi dà la possibilità poi di riconoscerla negli altri le vedete le persone che hanno che ti ascoltano ma capisci che non stanno ascoltando le parole vedono le labbra che si muovono perché siamo stati tutti in quella in quella condizione ed è una condizione è uno io sono abbiamo cominciato questa serata dicendo che ho un problema con la noia quindi io ho fin troppa poca paura di quella condizione ho più problemi con tutto il resto della vita insomma però diciamo quella condizione la trovo anche quando è dolorosa mi trova mi trova pronta e però ecco io ho proprio la sensazione le capisco gli occhi delle persone quando infatti bisognerebbe secondo me parlare a bassa voce io l'altro giorno c'è una mia amica che ha avuto un lutto molto importante e dovevamo andare al cinema con altre due amiche che sono meno amiche e io ho proprio scritto a queste due persone parlate a bassa voce perché siccome una delle due soprattutto ha ciao e ho detto vi prego dico quando ci incontriamo ci salutiamo un po' pacatamente perché empatizzo con le persone che attraversano sono proprio i momenti in cui la vita fa lei non comandi più tu no? pensiamo all'innamoramento in quel momento fanno i corpi noi arriviamo dopo un anno o due non lo so andrebbe calcolato il tempo però quella spinta lì è come se facessero veramente tutto tutto i corpi e noi che cosa che ci stiamo a fare? allora noi nel frattempo ci stiamo a fare che possiamo trasformarci oppure no però è quello il momento secondo me è quando non ci si capisce niente che possiamo cambiare dopodiché quando riacquistiamo il nostro controllo è molto difficile cambiare tant'è che questo è un discorso che si fa anche a proposito proprio di Nicola che è un uomo sposato che ha appunto un patto antico a un certo punto le amiche in una maniera più corriva rispetto però dicono a lei dicono guarda che dopo un anno nessun uomo sposato lascia la moglie nel senso che cosa vogliono dire un po' questo vogliono dire è molto difficile cioè le rivoluzioni si fanno mentre tu non ti accorgi che le stai facendo se ti fidi se ti fidi appunto di quell'assenza di controllo puoi andare da qualche parte in questo senso nel momento in cui Adele scopre di essere incinta lo decide in questo momento nel momento in cui si fida ciecamente del suo non capire che cosa sta succedendo desidera quello che sta succedendo perché lei aderisce completamente appunto le dice sono diventata tutto corpo e non instaura un braccio di ferro io alcune donne so che appunto invece proprio la gravidanza hanno vissuto vivono male quel momento perché non riconoscono il loro corpo non riconoscono invece Adele in quella non riconosce assolutamente si scopre miracolosamente pronta ma se non le fosse capitato non l'avrebbe mai scoperto e questo è è la beffa della vita però secondo me anche la sua la sua meraviglia io Grazie.